Io so che sembrerà stupido dirlo, ma mi sono sempre sentito cittadino italiano, ma non lo dico per, non perché voglio rifiutare le origini dei miei genitori, però comunque sono nato, ho cresciuto e per me Napoli è mamma mia, l'Italia è casa mia, quindi doveva finire come doveva finire, è finita bene, fortunatamente basta. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda travagliata che ha coinvolto Amin Abdelli, il trentenne tunisino nato a Napoli e registrato alla nascita come italiano da genitori stranieri. Un errore venuto alla luce qualche anno fa, quando Admin decise di trasferirsi in un'altra città per ragioni di lavoro e che da allora ha segnato la sua esistenza perché si è trovato improvvisamente suo malgrado in una condizione irregolare. Oggi per lui e la sua famiglia questa storia ha avuto fine con un'opzione consentita dalla legge, sottoscritta anche dal comune di Napoli, che lo rende a tutti gli effetti cittadino italiano. Si è sanato un errore che dalla nascita seguiva questo cittadino per cui era stato dichiarato cittadino italiano ma figlio di genitori invece entrambi tunisini e entrambi stranieri per cui in effetti non poteva dalla nascita essere considerato invece italiano. Però in questo caso c'è proprio una legge del 2014, l'ha forzata anche una cittadina di ministri all'interno, la quale stabilisce che anche se sono i decorsi, il 19esimo anno per optare per la cittadinanza italiana, quando non c'è una causa imputabile all'interessato si possa sempre rendere questa dichiarazione. Purtroppo non è un caso isolato, questo accade anche altre volte, non si tratta di un'ipotesi di just soli, questo lo chiariamo perché ovviamente ci siamo mossi assolutamente all'interno del quadro normativo di riferimento. Anche grazie all'ausilio della prefettura. Qual è la sensazione oggi? Devo ancora realizzare ma comunque mi sento di respirare dopo un po' di anni, finalmente sta cosa è stata superata, ringrazio tutti i dirigenti che ci hanno aiutato comunque a superare questa fase. Devo ancora realizzare, le ripeto sono ancora molto confuso ma è una cosa bellissima, per me sarà una bella giornata oggi e spero che non succeda più una cosa del genere come ne parlavo più. Prima con mia mamma nessun'altra persona.